Il 10 giugno Ibrea dovrà votare per scegliere il nuovo sindaco e la nuova amministrazione comunale, una scelta molto impegnativa e anche di responsabilità per i futuri amministratori. Ho deciso di candidarmi per mettere a disposizione della città la mia esperienza lavorativa, ho fatto per 35 anni il dirigente del gruppo Eni e anche amministrativa, avendo già fatto il consigliere comunale e anche l'amministratore pubblico. Credo quindi di poter dare un contributo alla mia città perché credo che oggi questa città valga e abbia bisogno di recuperare una fiducia in se stessa per le quali ci sia una possibilità di un recupero e di una ripresa vera per guardare avanti. Per questo mi sono candidato e spero di farsi. Ibrea prima di tutto, ho bisogno del vostro aiuto, datemi il consenso per aiutare a migliorare l'Ibrea. Grazie.